Maurizio Costanzo è stato un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore e paroliere italiano. Volto tra i più noti della televisione italiana, è considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere del talk show. Maurizio mi chiese, secondo te, quando si va all'altro mondo, di là che succede? Risposi, non lo so, però si va a stare meglio. E potrò avere un televisore. Non credo. Sai che noia allora, ma no, vivrai nella pace del signore. Vabbè, allora facciamo che chi arriva primo aspetta l'altro. Migliori amici da 50 anni, Maurizio Costanzo e Giorgio Assumma, 88, ex presidente SIAE, avvocato e confidente di molte star di cinema e tv, si conobbero nel 1973. Da allora non ci siamo più persi. Almeno una telefonata al giorno. Caffè ogni lunedì e mercoledì al bar Vanni, davanti alla Rai. Mi chiedeva un giudizio su ogni suo progetto. Io consiglio sulle cause legali. Mai uno screzio. Al teatro Parioli, per il Maurizio Costanzo Show, c'era sempre una poltrona in prima fila prenotata per Assumma se ci sei tu io mi sento più tranquillo. L'unica volta che mancai gli misero la bomba in via Fauro. Da allora Maurizio mi fece promettere che non avrei più perso una puntata. Fu Giorgio a presentargli la signorina De Filippi Maria, era una brillante laureata in legge, consulente dell'Associazione Fonografici Italiani, a Milano. La sentivo spesso. Mi chiese se potevo trovarle un moderatore famoso per un convegno, sulla pirateria discografica a margine della mostra di Venezia. Baudo era impegnato. Vespa pure. Maurizio traccheggiò e infine accettò. Maria venne a prenderci in aeroporto. Lui manco la guardò, quasi seccato. Allido, scesi dalla barca, si fece sotto un fotografo. Al che Maurizio le disse secco, per favore, dottoressa, mi resti lontana, non voglio paparazzate. E anche a cena la fece sedere dall'altra parte del tavolo. Grazie a tutti.